Signore, signori, buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Questa sera voglio riparlare del problema delle ipercolesterolemie, cioè il colesterolo troppo elevato. Perché lo faccio? Per tutto però è un argomento estremamente importante. E poi perché ci sono delle novità terapeutiche molto interessanti e soprattutto molto efficaci. Vediamo comunque. Sappiamo che il colesterolo è uno dei grassi che circola nel nostro sangue. Prevede varie frazioni. Quella che interessa a noi in questo momento è la frazione LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo. Quello che si deposita sulle nostre arterie, quello che è il vero fattore di rischio cardiovascolare. Dà sintomi l'ipercolesterolemia? No, assolutamente no. Salvo che non siano le conseguenze dell'ipercolesterolemia sui vasi che possono dare patologie vascolari. Ma è un altro discorso. Quindi l'ipercolesterolemia viene scoperta magari occasionalmente facendo un esame del sangue per un qualche motivo che il medico ci ha consigliato di verificare. E vorrei qui fare una breve parentesi. Normalmente noi parliamo di valori normali. Ecco, oggi si tende non più a parlare di valori normali, ma valori raccomandati. Perché? Perché le ipercolesterolemie vanno affrontate a seconda del profilo di rischio del soggetto. Cos'è il profilo di rischio? È una valutazione globale dei vari fattori di rischio e quindi un dato che ci dice che questo soggetto che fuma, che ha il diabete, che ha il colesterolo alto, è a rischio elevato. Quest'altro che ha appena il colesterolo un po' elevato e basta, non ha una condizione di rischio elevata. Quindi individuare il soggetto, valutare il rischio. Esistono delle carte di rischio a disposizione di qualsiasi computer, quindi non ci sono problemi per valutarlo. E a quel punto decidere quali sono i target, i riferimenti, gli obiettivi che ci poniamo rispetto a quella ipercolesterolemia. Ripeto, dipende con chi stiamo parlando. Altra piccola parentesi. La dieta, qualche volta questi soggetti vengono colpevolizzati, mangi troppo e per quello che ha il colesterolo alto, la dieta incide per abbastanza poco rispetto ai due terzi che produciamo noi. Quindi un terzo soltanto lo andiamo a prendere dalla dieta. Questo non significa che l'ipercolesterolemico può mangiare quello che vuole, ma sapere che lo stile di vita globale che va perseguito, non una dieta particolarmente rigorosa, naturalmente i consigli generali di non abusare nell'introduzione di grassi e di colesterolo in particolare, naturalmente vengono assolutamente mantenuti. Ho detto prima, novità terapeutiche. Allora, ricordiamoci, attualmente le ipercolesterolemie vengono affrontate con le statine. Le statine sono farmaci che bloccano la sintesi, la produzione da parte del fegato del colesterolo. Tantissimi assumono queste statine. Poi però ci sono anche i cosiddetti nutraceutici, la gente li chiama integratori. Questi contengono per lo più il riso rosso fermentato e quindi la monocolina K che è una statina. Attenti, fino a qualche mese fa i prodotti contenenti monocolina K potevano avere fino a 10 milligrammi di questa sostanza, di questa statina. Da qualche mese appunto questo valore è ridotto a 3 milligrammi. Quindi attenti, se uno una volta prendeva una compressa di un vecchio prodotto di riso rosso fermentato, verificare, perché potrebbe essere che la confezione comprata recentemente non abbia più i 10 milligrammi da cui sapevamo avere effetto, ma potrebbero essere i 3 milligrammi, quindi la cosa va eventualmente adattata. Ricordo anche che è in arrivo un acido bempedoico. E un altro farmaco sembrerebbe molto interessante, soprattutto è eventualmente associabile alle statine. Ed è un altro farmaco che in un meccanismo diverso comporta la riduzione dei valori di colesterolo circolante. Oggi però vorrei fare un accenno, se ne parla molto, a quelli che sono i bloccanti, la sintesi di una proteina, che si chiama PCKS, che cosa fa questo PCKS9, blocca i recettori. Cioè dire, più è presente questa proteina nel nostro sangue, più si accumula colesterolo. Più la blocchiamo, quindi eliminiamo la sua efficacia, meno il colesterolo sarà elevato. L'interessante di questa è che recentemente è stata commercializzata in Clisiran, che ha un vantaggio che può essere fatto sotto forma di una iniezione sottocute ogni 6 mesi. L'efficacia è molto elevata, fino alla riduzione del 50%, e soprattutto la tollerabilità pare essere molto, molto interessante. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.